Con Simone Amicali, presidente del campus universitario del Pionta, parliamo di questo Open Day, una giornata importante che vede l'avvio anche del Festival della Salute, ma restiamo su quella che è l'offerta dell'Università di Arezzo di Staccata da Siena. Abbiamo qui le nostre aule piene di ragazzi delle scuole superiori che vengono per sentire che cosa si studia all'Università di Siena e in particolare nel campus di Arezzo. Quindi abbiamo già, l'anno prossimo l'offerta arriverà a 14 corsi tra laurea magistrale e laurea triennale e abbiamo anche due novità, due novità importanti, devo dire, siamo molto contenti di far partire questi due corsi. Il primo è una laurea quinquennale abilitante in scienza della formazione primaria, quindi quella da cui verranno fuori gli insegnanti di scuola elementare e di scuola materna. E la seconda è la nuova laurea abilitante per la professione dei geometri che verrà insegnata nel nostro polo scientifico-tecnologico, che è il Centro di Geotecnologie di San Giovanni Valdarno e sarà la laurea obbligatoria per esercitare la professione dei geometri. Quali sono i corsi che vanno per la maggiore? Sicuramente qui ad Arezzo tanto l'area delle lingue quanto l'area della formazione, quindi Scienze della formazione primaria è stato avviato proprio per questo, perché c'era una grande richiesta. Lingue invece, Lingue per l'impresa e lo sviluppo, che è triennale, più magistrale, ha questo importante doppio titolo con l'Ateneo cinese di Wenzhou, è uno dei pochissimi doppi titoli triennali. In tre anni si prende una laurea valida in Italia e valida in Cina, con due anni passati in Cina, insomma è una cosa molto interessante. Grazie a tutti.